Bambu Natale sotto l'albero mi ha lasciato dei pensieri miei per voi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e Buon Natale! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Buon Natale! 25 dicembre, Buon Natale a tutti! Vi state divertendo, vi state riposando, state smangiucchiando tante cose buonissime Buon Natale, Buon Natale a tutti! Entro in punta di piedi nelle vostre case Vi rubo pochi pochi istanti solamente per farvi vedere Cosa Babbo Natale ha lasciato sotto l'albero per tutti voi Sì, oggi si apre ufficialmente il giveaway di Natale su Arte per te Bisogna festeggiare degnamente un anno passato in armonia, felicità e colore Grazie per essere così numerosi, grazie per essere così speciali, così attenti, premurosi ed educati Grazie per essere così come siete A ognuno di voi sapete che vi voglio bene singolarmente come persone Non come massa che mi segue ma singolarmente come persone Perché mi date l'onore di farlo scrivendomi, di interagire, sappiate che vi ho nel cuore Uno per uno, ogni risposta data, ogni domanda letta, ogni frase detta È una frase che io vi ho detto col cuore Vero Buclé? Viene sempre qui quando faccio i video Buclé E allora, per ringraziarvi del vostro modo di essere Ho pensato proprio di fare un bel giveaway di Natale Vi state divertendo? Avete ricevuto bei regali? Beh, non avete ancora visto quelli che ci sono per voi Tre fortunati vincitori che avranno tre regali stupendi L'estrazione sarà il 6 gennaio Le regole per partecipare al giveaway? Semplicissimi Essere iscritti ai miei tre canali Arte per te, ombretta e due cuori una cappa Lasciate quanti commenti volete, leggete il regolamento qua sotto Nel box informazioni e incrociamo le dita Adesso vi dico i premi La busta numero uno contiene Innanzitutto questo per i più piccoli Che è il Fabric Fun Cioè pastelli per scrivere sulla stoffa È il set completo con i pastelli e la maglietta e il regalo Divertentissimi, carinissimi, efficacissimi, buonissimi Super testati d'arte per te Veramente un bel regalo Poi un libro di creatività Quindi costruzioni di bambino Della Edibrico, mi pare, sì Della Edibrico Molto carino, tanti progetti da costruire con il cartone Insieme ai vostri piccolini Della Ferrario Un blocco di carta acquerellabile Tintoretto per dipingere i vostri acquerelli Su una carta veramente di ottima Ottima resa Ferrario Acquerelli Guardate qui Cosa può arrivare a casa vostra Una serie di acquerelli Godet Superfini Della Ferrario 12 pasticche maxi Che potrete utilizzare per dipingere Con assoluta professionalità La busta numero 1 Quindi è così composta La busta numero 2 Da 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 Per i più piccoli Due cosine Allora Sempre il solito set Della Pentel Fabric Fun I colori per stoffa Della Pentel Con maglietta E poi Una confezione Da 3000 pezzi Di Amabiz Il pezzo forte Ragazzi Una confezione Da 20 pastelli Della Ferrario Pastelli Extra fini Per artisti Stupendi Sono i miei pastelli preferiti Quelli che utilizzo io Quindi Ve li regalo con tutto il cuore Con la sicurezza di regalarvi Qualcosa di veramente Veramente Bello E prezioso Per chi disegna E buon disegno a tutti Ultima busta Siamo pronti E vari Solito set Della Pentel Con i Fabric Fun Sempre per i piccoli Una confezione Di Amabiz Fluo Queste Sono un po' Semi trasparenti Bellissime Da 3000 Una cosa che a me piace Tantissimo Il tintorsetto Lavatore Ed è un solvente Veramente Atossico Non ha neanche La croce di Sant'Andrea Su confezione Per diluire Il colore ad olio Per miscelarlo E anche per pulire i pennelli Va benissimo È inodore Ed è totalmente Atossico Per poter dipingere a casa In allegria Una confezione Di colori ad olio Della Ferrario Hydro Oil Sono i colori ad olio Diluibili in acqua Solubili in acqua Una figata Pazzesca Ditemi voi Come vi trovate Io questi non li ho mai usati Ma come concetto Mi piacciono tantissimo Ne ho provati di altre marche Questi no Quindi sono 12 tubetti Ad olio Che però Possono essere diluiti Anche in acqua E che tra le altre cose Potete usare Anche con questo Per questo Li ho messi insieme Spero che queste buste Mi piacciono La data di scadenza Del sorteggio Ve la metto qua sotto Nel box informazioni Anzi meglio qua In sovraimpressione Bene In bocca al lupo a tutti E spero di avere portato Una ventata di gioia Per questo Natale Avete già spacchettato tutto E invece no Ancora qualcosa Dovete averla Per Natale Il regalo di arte per te Vi auguro un Natale del cuore Vi auguro un vero Natale Di rinascita E di riconquista Di ciò che desiderate Auguri a voi Alle vostre famiglie Auguri a coloro Che non stanno bene Auguri a coloro Che lottano per qualcosa Auguri a tutto il mondo Auguri a tutti voi Vi voglio infinitamente bene Auguri 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 Me ne vado Continuate a festeggiare Senza di me Ma un pensierino felice Voltatelo pure Per la vostra ombretta Che vi vuole tanto bene Buon Natale A voi E alle vostre famiglie Da ombretta E da arte per te Tutto Arrivederci Ciao Vi voglio bene